Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi e con il nostro Signore. Ora che la sua eminenza ha soldato l'Assemblea e per le suore delle poverate di suonaria di Albano portano la regia a Luisa Montaurea che torna appunto alla chiesa di Sant'Aurea, la sua eminenza raccoglierà il Signore per fare l'ostima di Giovanni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.